La stima che ho fatto io in passato dovrebbero esserci, con dati del 2001, oltre 20.000 aziende in Europa che sono state condattate dall'European City Guide. Se moltiplichiamo queste con il numero di nuove guide che sono sorte, ci rendiamo conto che il danno economico a livello europeo che queste sedicenti guide procurano è notevole. In totale con il sito italiano siamo arrivati alla ragguardevole cifra di 2.267 email di aziende che hanno lasciato la loro email presso il mio sito e aspettano una risposta. Vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.